Signorotti siamo tornati in un nuovo video di Marvel Snap, subito un bel pollice in su, non so come me sta a prendere a voi, a me me sta a prendere bene Andiamo nel pass stagionale, ho sbloccato 200 crediti, vado sulle missioni e mi prendo, sblocca una nuova carta e intanto ce ne andiamo avanti Purtroppo l'altro video abbiamo perso, ahimè, una partita che potevo recuperare all'ultimo Però, boh, allora questo campo le carte hanno un costo ridotto di uno Uh, ok, però questa quanto mi vale? Zero Ah però se questa, forca puttana Quindi io faccio così, faccio così e faccio così A me non mi sembra male Quante carte da uno puoi avere anche tu Come partenza è incredibile, se permettete Se permettete, eh Frano che l'opponente abbia giocato così Quando una carta viene spostata in questo campo ottiene due di forza Io non posso giocare una beata minchia di niente Merda Da che stavamo un vantaggio? Niente, oh Come fai a spostare una carta lì? Ci sarà qualche cosa? Però un po' di sfortuna, eh Ciclope è tipo gigantesco come... Cioè è una roba incredibile, ciclope Ciclope Più uno ti costo una carta in entrambe le mani dei giocatori Ah Allora facciamo che io dopo qui non gioco niente Facciamo che dopo qua io non gioco niente Ci sta Però ce la stiamo lottando bene Quindi Quindi Medusa non la metto lì Io farei così Mi aumenta qui la carta E dopo centrali ci metto Medusa Ipoteticamente dovrebbe essere vinta Sempre per ipotetico Sempre per ipotetico ragazzi Uh Iron Man è interessante Iron Man è molto interessante Però dovrà venire pure a me Iron Man O no Undici Allora undici Dodici Tredici Quattordici Quindici Sedici E lo supero Invece con questo Arrivo a Allora io farei così Farei Eh no Non mi conviene Non mi conviene Fermo un attimo Mirche Allora io a sto punto farei così E farei Che mi faccio le cazzi miei No Posso rischiarla Posso rischiarla Decisamente Però poi io non faccio più niente Poi non faccio più niente Vai Mi piace 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 Antman Caro Antman Forza 3 Se possiedi Forza se possiedi Altri 3 carte In questo campo Purtroppo non ho niente Posso dire di avermela giocata Al meglio delle possibilità Credo Credo di sì Mi preoccupa questa Ok Mi sa che abbiamo vinto Let's go Molto molto bene A casa Possiamo anche aumentare lei Ci sta eh Abbiamo fatto comunque una bella Una bella partitina Decisamente Quindi abbiamo sbloccato qualcosa Passa stagionale Nuovo avatar Beh non male Come faccio A mettermi L'avatar Che significa Mazzu Scusami Penso sia un po' Buggato Io Vero sistemarmi Ehi Ok Che c'ho di bello Antman No preferisco Preferisco il mio Dico la verità Quindi non ho niente Andiamo avanti Dai Non è bruttissima Non è bruttissima Ok Allora Vediamo un po' Chi possiede più carte In questo campo Tiene più Cento Forza Non lo so Io comunque Una carta da uno Qua la metto Secondo me ci può stare Tanto là si va a numero Quindi tutte carte da uno Andrebbero messe su questo campo qua Se non erro Se non erro Ok Se mi arrivano le carte da uno Nel numero quattro Si trasformano in un nuovo campo Ok Quindi non sappiamo Effettivamente Più tre Se possiedi altre tre carte In questo campo Quindi io andrei a fare così E mi andrei a Aspettate Più tre carte In questo campo Quindi in realtà A me converrebbe sempre Portare qua Il problema è che Io farei così Io farei così Perché comunque L'ho immaginato Che lui Qua Volesse fare qualcosa Ma ne ero Convinto Raga Ok Quindi per il momento Non è Orribile Cioè non è Orribile Mi devo concentrare Tantissimo Su quella roba là Perché se mi arrivano Carte da uno Il campo a sinistra Ce la faccio Comunque Rovine Però non mi ha dato niente Secondo me L'opponent Mi va sul centrale Impossibile Che va qua Io Farei così Dai Gli lascio Il sinistro Gli lascio Ero molto indeciso Se farlo centrale Però Devo dare un po' Più di potenziamento Nove centrale Non è male Perché Perché Scusatemi Non ho capito Di giro Non l'ho capito Vi giro Non l'ho capito Io farei così Perché tanto qua Lui qualcosa Tirerà dai Qualcosa là Tirerà lui Invece no Oh Ho vinto uguale Bene Molto bene Molto bene Molto Molto bene Il suo Il suo Hulk finale È stato Comunque Carino Ma Non ballava Per niente Ragazzi Bella Questa Questa carta Mi piace un botto Sarà Ma mi piace Davvero Davvero tanto Andiamo qua E la potenziamo Signori Che vi devo dire Puoi spostare questa carta Una Oh Oh Mio Dio No È pure Da uno Come carta Perché Abominator Io non è che lo gioco Spesso Cioè questa carta Non No Faccio il pazzo Sto facendo il pazzo Ragazzi Sto facendo il pazzo Questa è follia Questa è follia Signori Al prossimo appuntamento Col vostro Dicevolo 89 Bella Ciao 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 Ciao